Un gelese è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di avere bruciato un'autovettura in piazza San Giovanni Bosco, appunto a Gela, nei pressi della sede della Caritas. Le indagini della polizia si sono basate sull'analisi delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove era avvenuto l'episodio. Gli investigatori avevano anche sentito alcuni testimoni ed eseguito accertamenti tecnici per ricostruire tutto il quadro di inchiesta. A quel punto la procura di Gela ha chiesto l'applicazione di una misura cautelare e il GIP del Tribunale della Città del Golfo ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare con applicazione degli arresti domiciliari e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per l'indagato sospettato di essere l'autore dell'incendio doloso. L'inchiesta in ogni caso non è ancora chiusa, ci sarà da stabilire anche il movente alla base del gesto. Una volta completata l'indagine la procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato e quindi l'apertura del processo o archiviare il fascicolo.